Nel pomeriggio di ieri il noto imprenditore Flavio Briatore a sorpresa si è presentato al Casinò di Sanremo, dove ha incontrato il sindaco Maurizio Zoccarato e il presidente di Federgiocco nonché consigliere di Casinò S.P.A. Marco Cambiaso. Briatore, che in questi giorni si trova per lavoro nella vicina Monte Carlo, ha voluto rendersi conto personalmente delle potenzialità che potrebbe offrire il Roof Garden della casa da gioco, quindi non escluso che possa progettare una versione tutta Sanremese del billionaire. Briatore, che è anche proprietario di locali alla moda, ha visitato non solo il Roof Garden, ma anche le sale da gioco, mentre Zoccarato e Cambiaso gli hanno riconfermato l'offerta di collaborazione per rilanciare il Casinò Municipale. Briatore potrebbe utilizzare il Roof per occasioni speciali, esempio a Capodanno, organizzando appuntamenti con personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, anche nei giorni del Festival di Sanremo ed in collaborazione con il suo amico Lucio Presta, che ha già organizzato eventi al Casinò e che l'accordo gli è stato appena rinnovato anche per il prossimo anno. Non mancano quindi nuove idee per rilanciare l'immagine del Casinò di Sanremo.